Mary J.A.F.M.S Ciao Ciao, 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 ciao Bentornati o bentrovati ragazzi spero stiate tutti, tutti, tutti molto bene allora oggi volevo farvi rilassare con un classico video trigger volevo farvi rilassare con un classico video trigger ho scelto 4 trigger barra visual trigger per voi allora voglio partire dal primo nuovissimo trigger che porto qua sul mio canale youtube il live sulla piattaforma viola l'abbiamo già testato sto parlando di queste balline triggerosissime che mi ha regalato temo rei il mio amico tamo temo le trovo molto triplosso l'abbiamo già testato Grazie a tutti. 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 Il secondo trigger sono le forbici. Grazie a tutti. 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 Bellissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono super trigger. Grazie a tutti. ok Ok, ok, ok. Ok, 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 ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok 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 Ok, ok